cari amici di fs news un saluto da luca mattei oggi mi trovo nello studio di fs news radio dall'altra parte dello schermo cristian russo e qui in compagnia con noi flavio insinna ciao flavio ciao eccoci qua buongiorno salve ciao allora ti vediamo ogni giorno in tv e sul rai uno in prima serata sarà il protagonista di amuso duro un film di marco ponte corvo che narra le vicende del dottor antonio maglio se una storia ancora poco nota vuoi raccontarci allora il professor antonio maglio è come dire un vero visionario è stato un visionario medico che ha stravolto il concetto di disabilità cioè dell'approccio alle cure alle persone con disabilità ed è l'uomo che il dottore che è un genio vero che insieme a un medico straniero un suo amico il dottor gutman hanno praticamente inventato le paralimpiadi le prime paralimpiadi sono a roma nel 1960 ci sono state ci furono prima le olimpiadi di roma e quelle magari quasi tutti se le ricordano magari in pochi sanno che le prime paralimpiadi che tanto ci fanno emozionare adesso d'inverno d'estate meno male piano piano sempre di più hanno la visibilità che meritano e sempre di più ne devono avere le prime paralimpiadi furono nel 1960 grazie a soprattutto a questo uomo straordinario il professore antonio maglio che capì che tra le altre cose lo sport è una chiave è un grimaldello fantastico per buttare giù i muri per far stare insieme le persone appunto con disabilità si gioca ci si impegna ci si allena si torna a una vita che sicuramente è diversa perché c'è da come dire fronteggiare c'è da convivere con una disabilità ma si torna ad una ad una vita vera e lui c'è da fare una precisazione appunto siamo negli anni 50 60 comincia ad introdurre a parlare a portare avanti dei temi che adesso possono sembrare scontati e ancora adesso non lo sono ma pensate negli anni 60 lui comincia a dire un disabile deve potersi sposare deve poter avere dei figli deve tornare a lavorare cioè non solo curare le persone ma il dottor maglio fa una cosa importante allo stesso modo cioè si prende cura e come dire ridà anche dignità perché non c'è solo e ci mancherebbe il contrastare la la disabilità il problema che hai il trauma che hai subito ma poi c'è il trauma quell'umano e lui lo dice ci sono anche dei suoi scritti che io come dire ho letto per studiare per prepararmi a questo film lo dice proprio sempre la prima cosa tutto per i pazienti e ha vissuto dedicando la sua vita ai ai pazienti alle sue ragazze e i suoi ragazzi a quella che considerava un'altra famiglia per lui allora a proposito del dottore c'è una scena nel film in cui massimo vermuller si lo definisce dice ci sono due tipi di matti quelli che credono di essere napoleone e quelli come te che tipo di matto era antonio maglio era beh era un matto di quelli che che provano a cambiare il mondo a cambiarlo in meglio cioè è chiaro che in quegli anni dire appunto massimo straordinario nel film ed è ed è il primario che praticamente ha come figlioccio appunto antonio maglio e dottor maglio stimandolo profondamente come uomo e come medico però rimane anche lui così quando appunto il professor maglio gli dice no no io vorrei fare dei giochi appunto delle attività sportive delle gare c'è per i pazienti disabili già appunto massimo come dire in italia c'è no no da tutto il mondo è chiaro dirlo adesso è già adesso comunque è straordinario e vi posso dire io da supporter sostenitore di una delle squadre del basket in carrozzina del della clinica santa lucia dell'istituto santa lucia di roma che quelli bravi dicono un luogo davvero di eccellenza quando si dice è un'eccellenza per quanto riguarda la riabilitazione la neuro riabilitazione io lo dico sempre alle ragazze e ragazzi è il mio modo di vedere le cose quando arrivi al campo ti sei allenato hai superato mille difficoltà che giustamente le persone non sono tenute a sapere io dico poi se vinciamo ancora meglio ma per me già che siamo qua tutti assieme abbiamo già vinto abbiamo già vinto perché secondo me se uno questo mondo non lo conosce si può immaginare la fatica della vita di una persona con disabilità e della sua famiglia ma se uno non la vive non non si rende conto e ripeto quando appunto i ragazzi sono le ragazze ragazze arrivano al campo si cominciano a scaldare per me secondo me nel mio modo di vedere la vita le cose abbiamo già vinto un pazzo ripeto tornando alla tua domanda appunto sono poi c'è una frase bellissima che ho sempre amato dice che il mondo sottolineo in bene lo cambiano i pazzi i ridicoli quelli che non hanno paura di sentirsi dire ma questo che vuole fare e nel film c'è perché poi come dire non solo tu devi affrontare la disabilità devi molto spesso affrontare anche lo sguardo degli altri le opinioni sbagliate degli altri e te lo senti quello sguardo addosso ne parlavamo prima mentre così ci facciamo due chiacchiere io lo so che cos'è entrare ad esempio all'autogrill che andiamo in trasferta con la squadra quando si poteva prima di queste benedette maschere che comunque ci aiutano e ci proteggono e se ci sentite un po attufati anzi diciamo sono le maschere e io lo so cos'è entrare all'autogrill con la squadra e c'è ancora qualcuno che ci guarda è come se boh dice che arrivano da un altro pianeta nel film lo diciamo quando il professor maglio fa provare la carrozzina ad un onorevole che è lì che sta lì per capire se è un progetto valido ad aiutare il film ce la prego provi vede un attimo di situazione lui dice le garantisco da medico che non è contagiosa e ci sono ancora tanti muri da abbattere sia barriere architettoniche quelle che adesso chiamano barriere architettoniche ma che il dottor maglio già aveva visto appunto le difficoltà a rinserirti a scuola all'università o mio nipote acquisito appunto della squadra che all'università per arrivare su ai piani di sopra per gli esami è una lotta e dice perché come dire questo film per me è sì un film ma soprattutto è un regalo perché mio papà appunto lavorava alla santa lucia per un periodo e la prima partita di basket in carrozzina mi portò un pomeriggio a vederlo avevo 6-7 anni a luglio ne faccio 57 la io ripeto l'ho già detto qualche altra volta nelle interviste io mio padre non lo ringrazierò mai abbastanza perché mi ha aperto un mondo da subito e cominci a capire quello che devi fare nella vita perché anche se puoi non fare il medico io avevo il terrore degli aghi e ce l'ho ancora altrimenti avrei fatto il medico come papà però appunto non curi non sei un medico ma puoi e devi prenderti cura degli altri e io dico sempre un'altra cosa uno fortunato come me all'obbligo morale quello di cui parla canta nelle leggi morali dentro di te margherita hacke scienziata però diceva una cosa fantastica secondo me dice non serve avere dice se proprio non avete una religione c'è un punto di riferimento come dire dal punto di vista della religione basta una sensibilità morale per aiutare ce n'è che anche dice vabbè io sono ateo non credo a nessuno a niente bene ma tu lo senti il dolore degli altri passando a gabber lui dice una cosa dell'appartenenza e avere gli altri dentro di sé cioè non ci vuole tutto sta scienza cioè io non sono laureato studio leggo ma non è che insomma ti portano a vedere il basket in carrozzina capisci che vuoi dare una mano capisci soprattutto che ti arricchisci tu perché a me quando vado appunto stiamo insieme alla fine ti ringrazio io ritengo dico sempre guardate che sono io che imparo ma non lo dico tanto per dire è proprio così. Flavio allora tu conosci benissimo ce l'hai raccontato anche per esperienze familiari e personali il mondo della disabilità e aghi a parte come come hai accolto la proposta di vestire i pani del dottore e di un dottore particolare come maglio allora te lo ti dico proprio la verità è la verità proprio come fosse un ago quando mi ha chiamato marco ponte corvo che io conoscevo solo come regista come noi non c'erano mai incontrati io ti giuro per paura siccome non credo mai a me stesso come capacità io ho detto no ti giuro ho detto guarda ti ringrazio e dico però c'è l'eredità credo guarda di non esserti utili lui per fortuna ha insistito ha detto ma almeno prendiamoci un caffè ho detto ma guarda vabbè dai prendiamo un caffè ma io ti giuro altro che un ago perché lì c'è appunto i ricordi della mia famiglia di mio papà la cosa ricostruendo mio papà non c'è più purtroppo ma con mia mamma abbiamo ricostruito un po le date io sicuramente il professor maglio l'ho incrociato da bambino magari mi ha pure detto levati di mezzo che devo passare con la squadra che so perché andavo con papà e poi ho incontrato marco adesso voglio dire è vero che nell'intervista che si abitava a sentire l'attore l'attrice dice quanto è bello quanto bravo il regista io alle volte negli anni anche perché non ho i capelli bianchi uno glissa dice tutto bene va avanti cioè te ne accorgeresti se io stessi dicendo delle cose un po così depretura tanto che io invece no ti dico che ho scoperto una persona ancora prima che è l'artista e non lo devo giudicare io straordinario perché ti assicuro noi abbiamo beccato le settimane quelle d'inverno un po prima di natale ma con l'alluvione quello fisso giravamo ad ostia perché una parte della storia proprio del professor maglio a ostia quando lui trova una vecchia clinica abbandonata e lì comincia il suo progetto porta lì i malati le ragazze e ragazzi con disabilità e comincia là il suo percorso quindi abbiamo trovato una cosa assomigliante ad ostia cioè ti dico si sono allagati i camion ma non si riusciva ma non arrivare sul set non si riusciva dentro piove che diventa dice ma che per te ma il problema non è per me bambini ragazzini i più giovani abbiamo avuto gli atleti nostri dei giovani e tenaci loro gli atleti paralimpici con disabilità che sono venuti a farci questo regalo cioè a fare le scene di gioco insieme sembra adesso raccontato così forse non riesco a trasferirvi tutte le difficoltà di una giornata ti giuro marco sai quando uno dice ci ha preso per mano tutti i più giovani più anziani cioè ci sono attori di tutte le dà appunto massimo per muller fa una minazione claudia vismara che fa mia moglie io i ragazzi ragazzini in quel freddo è un attimo ti perdi in tutto questo c'è le difficoltà devi girare bene le scene cioè che dici beh siamo stati al freddo vabbè quello sono buoni tutti se resiste no in più devi farla deve venire devi tirare a canestro mentre l'altro dice la battuta la macchina presa è tutto quello che sapete che è un bellissimo gioco ma in tutto questo c'è una storia delicatissima da raccontare vera autentica da restituire e lui ti dico guarda lui si imbarazza quando gli facciamo ancora i complimenti lo ringraziamo però era un attimo perderci cioè il film l'avremmo fatto ma non l'avremmo raccontato così io ti dico un'altra cosa sempre nell'ambito della paura poi mi chiedevo scusa parlo troppo perché sono entusiasmato io per paura come del lago io il film ancora non l'ho visto io ho visto il per no ti giuro ma non è la scaramanzia dell'attore io proprio il terrore di vedere dico oddio che ho fatto non sono riuscito a farlo bene però l'unica cosa dove ho ripreso un attimo di speranza ho visto passare cominciano a passare i trailer quelli da un minuto dai parlo di me c'è il trailer è bellissimo dentro un paio di volte mi sono visto ma non proprio sono svenuto per la così dai lo so che stiamo come dire promuovendo il film io in realtà sto parlando di quella storia straordinaria perché poi lo diciamo nella fine del film tanto è stato fatto ma c'è ancora tanto da fare per quanto riguarda appunto la disabilità il sostegno ai disabili volevo chiederti proprio su questo premessa io il film l'ho visto si vede che è un bel film ha fatto bene però ovviamente lasciamo la parola poi al pubblico però appunto parliamo della storia perché nel 1957 tutto era complicato certo oggi a che punto siamo secondo te ripeto come diciamo alla fine del film tante cose sono state fatte ci mancherebbe altro tantissime sono sono da fare io che un po insomma è un mondo in cui come dire sono amico e ci sono e se in una famiglia c'è una persona con disabilità secondo me siamo ancora in una zona che se non hai come dire mezzi economici consistenti ragazzi già quando uno dei due genitori deve decidere se andare a lavorare o essere lui questa famosa parola car giver cioè assistente totale e già diventa un problema economico perché è chiaro tu vuoi stare con quella persona ma non vai a lavorare vai a lavorare a chi la lasci gli insegnanti di sostegno cioè per dire e tutto quello che è il mondo della della sanità siamo in una grandissima crisi economica alcune squadre di basket in carrozzina dei nostri campionati ad esempio quando io chiedo ma quella squadra lì quella città lì no non ce l'hanno fatta hanno dovuto chiudere e vuol dire che allora manca anche cioè poi torniamo purtroppo è brutta la parola che ma soldi economicamente non so come la vogliamo dire però io credo cioè sono convinto fermamente quando il papa dice che dobbiamo ritrovare un senso di fraternità non solo di comunità se non ti carichi il dolore degli altri sulle spalle un pezzetto per uno non non ne usciamo e in quest'ambito qua non si può far finta di non sapere che ci sono in italia la sanità che una visita se non hai la possibilità di farla privatamente l'appuntamento tra un anno sono figlio di meridionali e di medico meridionale non ci nascondiamo dietro un dito ci sono delle zone del sud del nostro paese dove se hai una malattia una cosa complessa devi andare come minimo al nord se non all'estero e non è giusto quindi rischio di dire anche delle banalità ma è così quindi ad esempio le scuole l'accesso alla palestra ammesso che ci sia la palestra non so se avete già avuto come dire la fortuna l'onore di intervistare il presidente bancalli del comitato paralimpico la situazione se ve la racconta lui ci sono delle cose belle ripeto già fatte ma tantissime da fare perché poi voglio dire c'è l'atleta paralimpico c'è come dire la stella va benissimo ma poi c'è il diritto per tutti di fare sport anche se poi non vinci le medaglie perché altrimenti che facciamo già subito come dobbiamo sta tutti insieme facciamo altre barriere dove leviamo dove proprio non ci devono non ci devono essere quindi ripeto tanto è stato fatto ma tantissimo è da fare ma non per piangersi addosso questo poi è un mondo dove proprio il pietismo la parola proprio non serve serve dare una mano come papà ti dico questa ecco e mi però cioè fui promosso mi disse va bene ti hanno promosso avevo 11 anni c'erano le paralimpiadi in canada e lui papà era uno dei medici della squadra italiana paralimpica diceva bene ti hanno promosso ti faccio un regalo ti porto ma non come turista mi fai da assistente quindi a 11 anni arrivai là e cominciai a spingere le carrozzine o comunque mi davano l'idea che dava una mano mi occupavo di quello ma veramente e poi alle gare e lì ripeto capisci insomma quello che vuoi fare nella vita sti maledetti aghi mi hanno impedito di fare il medico ma come dire sono rientrato dalla finestra però ripeto tornando alla tua domanda c'è ancora tantissimo da fare soprattutto in un paese che alle volte fa finta di non ascoltare poi mi taccio però sta benedetta parola aggettivo gli invisibili io dico sempre una cosa sono invisibili perché non li vuoi guardare perché appunto il professor maglio pose il suo sguardo sui disabili li vede benissimo poi è chiaro un genio e stravolge positivamente le cose però il problema è se non vogliamo guardare è un esercizio che il maestro proietti a scuola ci faceva fare sul palco ci guarda dice no non stai guardando veramente devi guardare poi vedere e quello il teatro spesso si assomiglia alla vita e viceversa è che non guardi o che guardiamo ma facciamo finta di non vedere oppure guardiamo distratti perché per carità abbiamo pure i nostri problemi è però la vita non è come dire i 100 metri 100 metri sono le olimpiade le paralimpiadi la vita è una maratona da fare tutti insieme e se c'è qualcuno che arriva in ritardo noi aspettiamo certo e in quel tutti insieme in un certo modo ci siamo anche noi di ferrovie dello stato certo le battaglie per il mondo della disabilità sono tante noi da anni siamo impegnati anche nel garantire il diritto alla mobilità per tutti certo e siamo stati vicini anche ad un'altra battaglia che probabilmente stiamo vincendo lo anticipavi in parte prima che quella linguistica nel 1957 venivano definiti paralitici minorati addirittura nel 2018 alla stazione di bortina noi c'eravamo e c'eri anche tu si ricordi è un bellissimo spazio è un bellissimo pomeriggio e c'è il presidente della repubblica c'eravate voi del resto una stazione elegantissima e la parola paralimpico l'aggettivo paralimpico il termine e entrava nella nella enciclopedia treccani ho avuto il privilegio di essere invitato a leggere e abbiamo costruito come dire un piccolo racconto cioè un piccolo testo sulla parola paralimpico devo dire la soddisfazione soprattutto per l'autrice che mi accompagna quasi sempre al lavoro nicoletta berardi la leggera treccani ha detto ma lo possiamo mettere come dire nelle nostre dico per noi è una medaglia e sottolineo che noi abbiamo un presidente della repubblica straordinario perché anni fa prima appunto di quel bellissimo evento di quel bellissimo incontro lui aveva già aperto la residenza estiva del quirinale alle persone con disabilità organizzando delle feste che sono andate anche in televisione trasmessa in televisione e disse una frase bellissima questa è casa vostra torniamo a quella parola che un po in questo periodo non a me non a noi spaventa l'accoglienza l'accoglienza e che vuoi fare la vita se non accoglie da una mano cioè pensi a te ok e poi c'è da se altrimenti pensare solo a me è che non è una vita e quindi è lì in quel come dire in questo filo un presidente straordinario come il nostro presidente mattarella in quella giornata appunto un evento bellissimo io ero emozionato anche perché e torna guarda questa mamma mia che botta un viaggio un viaggio poi siamo in treno idealmente siamo in treno e passano le immagini dal vetro io ho rincontrato uno degli atleti di quando ero bambina alle paralimpiadi con papà che è uno dei dirigenti per quanto riguarda la nazionale paralimpica italiana di nuoto e mi ha detto flavio ti ricordi e lui era un fenomeno entra in acqua ti giuro uno squalo c'è uno squalo io dico ma sì dico come non mi ricordo dico ma sei tu dice certo ed è stato un incontro bellissimo caramba che sorpresa perché dal 76 al 2018 insomma non c'erano mai più visti e però cioè sei sempre là come dire dove vuoi essere cioè io ripeto non dico che è casa mia perché sarà casa mia fino a che non mi caccero loro insomma però è dove voglio essere c'è il mio lavoro ho mille fortune e poi voglio essere con loro perché cioè tutti siamo speciali tu parlavi delle parole giusto paralimpico ok secondo me però non ci dobbiamo nascondere dietro alla parola ragazze e ragazzi speciali perché più o meno lo siamo tutti diversamente strani e poi uguali davanti sotto al cielo come dire sulla stessa barca o comunque nello stesso mare c'è una differenza secondo me speciali secondo me è così speciali sono le esigenze di alcuni rispetto alle mie quindi io non devo rompere scatole perché le mie esigenze sono meno speciali e quelle ragazze quei ragazzi quelle persone con disabilità hanno appunto delle necessità passami l'italiano insomma volutamente più speciali molto più speciali e questo paese tutti noi le dobbiamo ascoltare le dobbiamo realizzare cioè chi è pratico ad esempio di questa in treno andiamo tranquilli ci portate voi ma arrivace un po' alla stazione tra buche e cose anche dico chi parcheggia sul posto delle persone con disabilità cioè è bellissimo quella cosa che pubblicarono qualche anno fa dice se te prendi il mio posto te prendi pure la disabilità dice se no vai a parcheggiare dai ce la facciamo ce la dobbiamo fare Flavio io concludo restando sul tema delle parole e ne prendo in prestito una a cui credo che tu sia molto legato che è eredità qual è l'eredità che può lasciarci questo film? allora diciamo un so duro anzitutto per i più giovani se non mi è mai capitato di ascoltare quel capolavoro di Pierangelo Bertoli appunto che a Muso Duro è un omaggio a quella canzone dove alla vita gli devi sorridere alle volte è lei che te fa il Muso Duro e c'è da fare un po' per uno senza mollare ma da solo non ce la facciamo cioè Muso Duro da solo pure che fa il Muso Duro poi ci vuole appunto stare insieme aiutarsi il film io spero guarda Shakespeare diceva le cose veramente si vedono con il cuore più che con gli occhi io spero che le persone si mettano là ma chi non la sa questa storia chi non la conosce o chi magari pensa di sapere e magari rimarrà sorpreso dal racconto che faremo io più che un'eredità spero che sia una scintilla c'è l'accensione di qualcun altro di qualcosa che dice ma vedi vuoi andare da una mano ma c'è sta qua vicino una squadra o di basket o di un altro stato tutti gli sport si possono fare con disabilità dice voglio andare da una mano voglio andare a far sta cosa non lo so che qualcuno appunto se il film può essere anche sicuramente eredità la parola certo che mi piace ma io spero che sia soprattutto scintilla d'accensione non ti rubo altro tempo anni fa 2015 più o meno 2015 fece un altro film dove il tema era simile si chiamava La classe degli asini con Vanessa incontrata la storia della senatrice Falcucci praticamente che combatte per abolire le classi quella che è diventata la legge Falcucci scusami lei è l'insegnante appunto con figlio con disabilità e lei dice ma perché ci devono essere le classi speciali cioè i bambini, le bambine con problemi vengono ammassati in una classe dove non puoi che peggiorare viene abbandonato così che è lo stesso racconto che poi è la stessa cosa che fa il dottor Maglio dice perché devono essere abbandonati col gesso bloccati lì e non fare nulla e ti ricordavo quel film perché dopo, tornando alla tua domanda dopo che andò in onda noi fumo inondati ti assicuro inondati di lettere, di mail, di famiglie di persone appunto con problemi che almeno quella sera si erano visti rappresentare con onestà e con grande passione e bisogna farle vedere le cose le devi far vedere se no torniamo agli invisibili le cose le devi raccontare io mi auguro che questa scintilla venga accesa rinnoviamo l'invito per tutti i nostri ascoltatori chi ci vede a vedere il film a muso duro su Rai 1 prima serata abbiamo detto tutto grazie mille Flavio buon viaggio poi diciamocelo buon viaggio cari amici di FS News un saluto da Luca Mattei al prossimo video